Ormai tutto pronto perché i cinque superstiti protagonisti del premio Feistongal, la prova di maggior dotazione del convegno di oggi, un miglio per anziani categoria A e B, sono ritirate Zoe AMG e Sonia che avrebbero avuto rispettivamente il numero uno e il numero due. Restano dicevo in cinque al via con il tre Voltergi Fonte, Roberto Andrighetti per Eric Bondo, il quattro Taurus De Ronco, Tommaso Di Lorenzo per Luigi Sidi, il cinque Umberto Axel, Romolo Sani, il sei Verdondo più WF, Federico Esposito per il team Gocciador, il sette Uauca, René Legati, sempre per il team Gocciador. L'errore di Voltergi Font che cercava di prendere partenza lanciata e allora dall'esterno Uauca in poche battute scavalca Verdondo più WF al quinterno prova ad inserirsi Taurus De Ronco ma fa buona guardia Federico Esposito e porta Verdondo più WF davanti a Taurus De Ronco e Umberto Axe e dunque erano in cinque dopo i ritiri di Zoe, MG e Sonia sono rimasti in quattro dopo l'errore di Voltergi Font e sono in lunga fila indiana dopo quattrocento metri complessivamente veloci considerando che Uauca è andata in testa praticamente senza spesa perché io ho 27.6 sul mio cronometro ma ora René Legati riesce a moderare l'ardore della figlia di Massalienchi che infatti viene riaccostata dai tre avversari che sono nell'ordine Verdondo più WF, Taurus De Ronco e Umberto Axe che accenna anche a mettere la figura di fuori quando siamo all'apice della seconda curva. Nel frattempo Uauca completa il mezzo miglio iniziale in netta decelerazione, secondo quarto addirittura in 32.2 per metà gara in un minuto appena abbondate con Verdondo più WF che anticipa Umberto Axe e va al Salchi della Battistrada. Il chilometro che va via con una nuova lungo frazione in 13.9 giro in 1.14 e 2 per Uauca e Verdondo più WF seguiti in coppia da Taurus De Ronco e Umberto Axe. Quartetto riunito dopo 1.200 metri in 1.27.8 con Uauca che sembra controllare Verdondo più WF e poi Taurus De Ronco e Umberto Axe. La retta d'arrivo, Uauca alla corda, Verdondo più WF al suo esterno, poi Taurus De Ronco alla corda, Umberto Axe a largo con Verdonna che attacca a fondo Uauca che sembra un po' in difficoltà e allora Verdonna tende a passare ma ora Uauca reagisce alla richiesta, Uauca si difende e ora da Verdondo più WF i due testa a fin sul palo, Verdonna WF stampa la compagna di allenamento mentre Umberto Axe è terzo su Taurus De Ronco. Meno di 29, il quarto finale, meno di 1.57 sul mio cronometro, 1.56 e mezzo per il ritorno al successo di Verdondo più WF, Federico Esposito, i colori di Luigi Colombo e il training del team Gocciadoro per la vittoria di Verdondo più WF che sul palo piega per un'incollatura abbondante la favoritissima Uauca che pure aveva condotto al ritmo ritenuto più opportuno da René Legati, 1.56 e mezzo sul mio cronometro e quindi media intorno all'1.12.7 per il ritorno al successo di Verdondo più WF, linea lo studio. Grazie. 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 Grazie a tutti